500 le città italiane dell'olio unite da un filo, quello appunto dell'olio, alimento principe della dieta mediterranea, alleato della salute sia fisica che mentale, dal gusto più dolce o più piccante, che sa farsi amare da grandi e piccoli. Anche il comune di Barletta ha aderito all'iniziativa La Merenda nell'Oliveta, promossa dall'associazione Città dell'Olio, circuito di cui fa parte l'ente comunale. Un evento che desidera riscoprire il paesaggio olivicolo dei meravigliosi borghi d'Italia. Tra questi c'è il piccolo borgo di Montaltino, una frazione della città della disfida. Ecco che a curare ogni dettaglio dell'iniziativa ci ha pensato l'associazione Terroir. Dal tour con visita guidata al Palazzo Ducale e alla Chiesetta del Borgo, ai momenti culinari e di degustazione, Il tema scelto per l'intero progetto nazionale è Mental Wellness, ovvero il benessere psicofisico, che deriva appunto dal tempo che trascorriamo a contatto con gli olivi secolari, testimoni della straordinaria civiltà millenaria. Ecco che a Montaltino, come per gli altri borghi d'Italia, è stato possibile partecipare ad attività all'aria aperta, tra sessioni di meditazioni e pilates e lezioni di pittura. Un evento dunque che ha atteso sottolineare la necessità di prendersi cura del proprio sé e di potersi ritagliare degli spazi di tempo per la convivialità.